Però uno, Boffo, era direttore di un giornale che aveva molto contrastato il presidente Berlusconi nel momento del Daddario e queste cose. L'altro, Fini, è il suo in questo momento ex alleato che gli crea molti problemi. Marcegaglia è una che ultimamente ha criticato spesso Berlusconi. Allora la domanda è, ma questo giornale fa le campagne solo con i nemici del presidente o le fa su tutto quello che gli interessa? Non le dice niente il caso Scaiola. Chi lo ha invitato a dimettersi? Io, dopo averlo intervistato. E Scaiola è un amico di Fini o è un signore della maggioranza? L'abbiamo chieste noi le dimissioni, dopo averlo intervistato. Perché? Volevamo sapere se aveva delle motivazioni, delle spiegazioni accettabili. Siccome non ce le ha date, lo abbiamo invitato ad andarsene. C'è un problema, che Scaiola se n'è andato e non era indagato neanche lui. Fini è rimasto per una medesima questione di immobili. E quindi secondo lei, nel caso di Fini non ci sono ancora prove come c'erano nel caso di Scaiola? Ma quali prove hanno trovato per Scaiola? Semplicemente lui ha detto che qualcuno l'ha pagata, ma lui non sa chi. Insomma, uno non può sapere di chi era la casa. Uno non sa di chi sono l'altro. Non fermiamoci qua perché ho tante cose da chiederle. Assolutamente, le cose vanno chiarite. Non si lascia in sospeso. Scaiola noi gli abbiamo detto di andarsene, perché è ridicolo che un ministro prenda una casa e si stupisce perché qualcuno gliel'ha pagata e abbiamo detto che se qualcuno te l'ha pagata avrà avuto la sua bella convenienza. La stessa cosa è Fini, perché se ha una casa che vale un milione e mezzo a Monte Carlo, la vende per 300 milioni e la abita il cognato e il ministro di Santa Lucia dice che la casa è di Tugliani, facciamo finta di niente, sorgogliamo. Nessuno ha mai detto questo, anche perché gli altri... Lei minimizza come se fosse una sciocchezza, ha rubato un'amoria, ha rubato un panino, ma quale panino? È un appartamento, non suo. Ma sicuri se mi metto a difendere il Presidente della Camera? Mi sembra di sì. Non ci penso neanche. Sto cercando di capire. Eh beh, se vuol capire non deve... Perché lei ha detto al riformista che la signora Tugliani dovrebbe diventare ministro dell'economia? Perché è bravissima. È bravissima. Tremonti al confronto, poveraccio. Persino Gesù al confronto è un poveraccio. Perché ha moltiplicato qualche pesce, qualche pane, poi ha, diciamo, trasformato l'acqua in vino. Sì, però è successo duemila anni fa e ne parliamo ancora. Pensi che invece la Tugliani, avendo vinto al totocalcio 500 mila euro, adesso ha un patrimonio di 20 milioni di euro. Non è brava? È bravissima. Dovremmo averla anche come Presidente del Consiglio, perché finalmente l'Italia rifiorirebbe. Finalmente una donna, Presidente del Consiglio. Anche carina. Sarebbe una bella cosa. Anche carina. So che le piace, così dice Sgarbi, no? È vero? Sgarbi dice così, ma io la signora Tugliani l'ho vista mezz'ora un giorno, insieme col marito. E perché Sgarbi ha scritto che lei ha fatto il carino? Ma questo un po' telefoniamo a Sgarbi, perché sinceramente... Quindi non è vero. Ma Sgarbi è un giocherellone. Ah, va bene. Ma è come il nostro amico Porro. Infatti, non parliamo di sciocchezze. E ma è successo che prima di pubblicare qualcosa di particolarmente importante sul giornale lei abbia chiesto a Silvio Berlusconi, lo faccio o non lo faccio? Ma lei pensa veramente a questo. Lo chiedo, ho fatto una domanda. Non penso niente. Io faccio quello che voglio. Sa perché? Sa perché posso fare quello che voglio. Perché vende un sacco di giochi. No, no, no. Non lo dica. Se lei mi fa una domanda, poi si risponde da sola. Scherziamo. Io ho 67 anni. Sì. Grazie al cielo mi sono affrancato dal bisogno. I miei figli sono tutti grandi. La più piccola praticamente è in menopausa. Non è carino dirlo, ma insomma. Sì, ma mia figlia ride. Non si preoccupi, che sa che lo dico con affetto. Quindi, se anche io domani mattina, anziché rimanere in Via Negri, vado a casa mia, non è che mi sparo. Anzi, io ho anche un bel contratto. Qualora dovessi andarmene, bisognerebbe onorarlo. Quindi, di cosa devo temere? Lei ogni tanto dice di stare antipatico a Berlusconi. Sì, ma probabilmente sono antipatico. Ma non è plausibile, però. Perché parlo con Berlusconi come parlo con lei. Ma perché uno come Berlusconi, che ha, posso dirlo, uomini suoi ovunque, si metterebbe in casa uno che non gli piace, che non gli fa comodo? Bisogna chiedergli. Bisogna chiederlo a lui. Perché io già nel 1994 sono stato direttore del giornale, fino al 98. Diciamo che il mio predecessore non era l'ultimo fesso, perché si chiamava Montanello. Guarda caso, sono arrivato io, il giornale vendeva 110, 113 mila copie e quando me ne sono andato erano il doppio. E me ne sono andato, non perché qualcuno mi abbia mandato via, perché mi ero rotto le scatole. Mi ero stancato e me ne sono andato. E ho fondato un giornale che si chiama Libero, e Libero non era di Berlusconi, però Berlusconi lo leggeva Libero. E io non ho mai cambiato il mio atteggiamento politico. Quindi quando Berlusconi mi ha richiamato al giornale, il fratello, non Silvio, sapeva perfettamente che si portava in casa un pazzo come me. Se non gli fosse andato bene, mi lasciavano dove ero, perché io non ho chiesto a nessuno un posto di lavoro. Ma una volta che ha visto la prima pagina di Libero l'è venuto da vomitare? Sì. Il suo giornale Libero è inventato da lei? Sì, perché era venuto molto male, il primo numero. Poi però è leggermente migliorato, tant'è che poi vendeva 120 mila copie. E poi però è tornato al giornale. E poi sì, anche lei era alla RAI, è tornata qui, prima era qui. No, la RAI è stata un anno. Eh beh, cosa c'entra? Un anno o due, perché allora non è andata. Ma non c'è stare me. Era qui, è andata alla RAI, torna qui, perché non si può fare. Io non posso cambiare giornale. Sa quanti giornali ho diretto? Ma sì, ma non è la cosa di paglia. Sto facendo le domande normalissime. Che non vuole che si dica che è stato un anno alla RAI. Ma si figuri, è sotto gli occhi di tutti. Ah, appunto. Senta. Ma scusi, perché devo avere la cosa di paglia e di che cosa? Non mi ricordo neanche più. Per quanto? Ieri il giornale, in prima pagina, a differenza di Corriere Repubblica, non aveva la notizia su Sara Scazzi. Immagino problemi di chiusura, probabilmente voi chiudete prima. Io le volevo chiedere, dato che leggendo la sua biografia, ho visto che ha esordito scrivendo del delitto del panettone. Lei ha scritto di nera per tanti anni. No, non ho esordito 19 anni scrivendo di cinema. Sì, però poi diciamo che le cose vere le ha fatte alla notte. Sono diventato giornalista come critico cinematografico. Pesimo. Mi risulta che infatti non è che se la cavasse benissimo. Questo l'ho detto io. Cioè, lo dico io e mi risulta. Certo, lo dico io. Chi altro può averlo detto se non io? Perché lei, quando io facevo il critico, non era neanche nata. No, infatti. Le volevo chiedere cosa scriverebbe, non so, non credo che lei ne scriverà, del caso di Sara Scazzi. Cosa ne scriverebbe? No, non le scrivo, intanto perché non l'ho seguito e non l'ho approfondito. Quando si scrive di qualche cosa bisogna cercare almeno di capire. Certo che, devo dire, se dovessi anche fare un breve commento sarei in difficoltà. Perché la mia immaginazione, pur essendo fervida, non sarebbe mai riuscita a vedere una storia di questo tipo. Cioè, un signore di una certa età che uccide la nipotina di 15 e la violenta dopo morta la uccide con una corna. È una cosa orrenda. E credo che sarei, più che in difficoltà, anzi, siccome ho la fortuna di fare il direttore, chiamerei qualcuno e direi, senti, fai un commento su questa storia. Preferirei non avere a che fare. Ho qualche foto sua da ragazzo che vorrei mandare. Questo è un brutto colpo. Quello è il piccolo e lei, no? Sì, però piccolo sono. Cosa facevano i suoi genitori? Allora, mia madre lavorava in quegli anni all'associazione commercianti. E poi gestiva un deposito di pastificio per conto suo. E mio padre era funzionario dell'amministrazione provinciale, ma a 43 anni morì. E lei quanti anni aveva? Sei. E si ricorda suo padre? Me lo ricordo benissimo. Lei ha avuto diverse tragedie nella sua vita, perché se non sbaglio è rimasto vedo molto giovane. Sì, 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 avevo 23, 24 anni. Con due gemelle molto piccole? Sì, piccole, di pochi mesi. Posso chiederle, sua moglie, quanti anni aveva? Sì, eravamo un po' età, più o meno. Ebbe un parto difficile, un parto gemellare, a quel tempo già era complesso di per sé. Un parto eclamsico, cioè con le albumine, non è il caso di scendere nei dettagli. Beh, anche in questi due giorni si parla di parti a grande rischio. Si indebolì e poi bastò poco e se ne andò. Poi sei risposato, ho avuto altri figli. Sono risposato e ne ho avuti altri due. Ringrazio mia attuale moglie per avermi accettato e sopportato. Con... Eh sì, la capiamo molto bene, sua moglie. No, visto il carattere, grintoso. Posso chiosare? Chiosi. In 43 anni di matrimonio con la mia attuale moglie ho litigato meno che con lei questa sera. Sì, sì, voi. È proprio una chiosa graziosa. È vero che ha un busto di Mussolini e o l'aveva sulla scrivania? No, ho una testa di Mussolini che mi è stata regalata da un ristoratore milanese. Ah, quindi ce l'ha veramente? Perché pensavo su una leggenda metropolitana. Me l'ha mandata, l'ho presa, me la sono messa su un tavolino e lì rimane. Troverei sgradevole buttare via in un regalo. Siamo in la maggioranza ancora dei politici che si possono definire fascisti? Beh, Fini fino a poco fa era fascista, poi non so cosa sia successo. Beh, insomma, dai, lo sappiamo che è successo. Lo sa benissimo anche lei. Io me lo ricordo fascista. È vero che eravate amici? Non è solo lui, anche Granata, questi qui. Sì, sì, ma io non ho niente di personale con Fini, per l'amor di Dio. Beh, non siete più amici? Eh beh, è chiaro. Come si fa? Quando si scrivono certe cose... Eccovi insieme, lì eravate a Milano Italia, guarda, riconosco... Sì, ecco, questa sarà... Io ci lavoravo, ero l'ultima dei redattori. Saranno vent'anni fa. Sì, vent'anni fa. E quindi l'amicizia è crollata recentemente o già da tempo? No, il primo articolo che non è stato gradito da Fini, il quale le critica non le gradisce Tukur, è stato dunque in settembre dello scorso anno, fece un articolo intitolato più o meno così, ma dove vuole andare il compagno Fini. Perché dicevo questo? Perché Fini ogni volta che parlava veniva applaudito dalla sinistra. Allora io ho pensato, se un ex fascista è applaudito a sinistra, o c'è qualcosa che non va nella sinistra, o c'è qualcosa che non va nell'ex fascista. E da allora ce l'ha detto? Beh, non ha gradito e da allora ho saputo che si è un po' irritato. Poi anche lui ha detto che l'ho minacciato perché... Posso chiedere cosa vota? Chi? Lei. Di volta in volta scelgo. L'ultima volta? Si vota non per il migliore, ma per il meno peggio. E io se sono, diciamo, più o meno berlusconiano, è perché Berlusconi non mi piace, ma tutti gli altri mi piacciono ancora meno. Perché non le piace Berlusconi? Eh, perché è pieno di difetti. Quali sono? Per esempio, che so io, non ha abolito il valore legale dei titoli di studio, perché non ha rif... Qui squiglie. Beh, se vuole, allora vado avanti lei. No, insomma, mi dica qualche difetto un po' più vero, criticabile. Io sto parlando di difetti politici. Certo, non ho anch'io. Poi se in casa gira in cannottiere con le ciabatte, a me questo non interessa. Ma no, anzi, sempre col cashmirlino. A me non interessa. No, difetti politici, certo. Questo è un difetto, cioè non introdurre degli elementi di liberalismo mi sembra un grave difetto, gravissimo. La riforma delle pensioni, secondo me, non è stata fatta adeguatamente. Secondo me gli ordini professionali andavano aboliti già 30 anni fa, invece abbiamo ancora questo rimasuglio da Medioevo. No, ci sono moltissime le cose che non sono state fatte. Berlusconi... Il conflitto di interessi avrebbe dovuto risolverlo. Ma quello la sinistra, che ha governato per 5 anni e non è riuscita a introdurlo, mi sembra che vada... E lui non sarebbe stato... Mi sembra che vada... Non avrebbe fatto bella figura se l'avesse risolto. No, ha fatto brutta figura la sinistra a non approvare una legge che era passata, non so se in Senato o alla Camera. Comunque...